oppure per esempio la non menzione della condotta nel certificato del casellario giudiziario cioè può essere concessa dal giudice al condannato nel caso di reati non gravi quindi si parla di detenzioni non superiore a due anni oppure pene pecuneare non superiore a 516 euro portino appunto il giudice a non inserire nel casellario giudiziario diciamo la condanna emessa quindi sostanzialmente per la punibilità ci deve essere la commissione di un reato le condizioni obiettive di punibilità che abbiamo visto cosa sono e poi l'assenza di cause personali in discussione della pena che possono essere immunità o non imputabilità